Ciao a tutti, mi chiamo Roberto e sono un insegnante di italiano madrelingua. Vengo da Venezia. Io insegno italiano ormai di diversi anni, con studenti delle scuole superiori e con adulti anche per quanto riguarda la lingua degli affari. Se volete migliorare il vostro italiano con me, vi aspetto a lezione.